Ad incastrare i fratelli Cesaro, tra le altre cose, ci sono le dichiarazioni di un pentito, Ferdinando Pucca, legato al clan di Sant'Antimo. Ma l'inchiesta della DDA si regge anche sui sequestri, acquisizioni di atti amministrativi, iniziative alle quali seguivano puntualmente sfoghi, ricostruzioni e minacce intercettate anche nelle auto negli uffici dei Cesaro dai carabinieri. Interrogato il 23 marzo 2016, il collaboratore di giustizia racconta una storia di voti comprati a peso d'oro. Pucca riferisce di essere stato convocato a casa di Luigi Cesaro nel 2011, mi chiese di appoggiare la campagna elettorale di una persona che loro portavano come sindaco, si legge nella nota della procura, mi diede 10.000 euro, operazione che l'ex boss sostiene di aver già fatto nel 2003 per il cugino Pasquale. Intrecci opachi e un riciclaggio di capitali sporchi si celerebbero dietro altri investimenti immobiliari a 6-0. Villa dei Gerani ai Colli a Minei, Parco Emanuele a San Giovanni a Teduccio, due complessi residenziali a Villa Ricca e Giuliano. Su ordine del GIP Francesca Ferri sono scattati 5 arresti eccellenti. In carcere sono finiti gli imprenditori Aniello e Raffaele Cesaro della potente famiglia di Sant'Antimo, fratelli del deputato di Forza Italia Luigi Cesaro. In carcere anche i cugini imprenditori Pasquale e Antonio di Guida e l'ingegnere Oliviero Giannelli, tutti accusati di aver favorito il clan di Peppe Polverino, boss detenuto dal 2012 al 41 bis.